quella poi ho beh che si dice non sento l'audio no mi sento l'audio i disc CS oh non fa caldo a Roma di oggi neanche tanto oggi si starà bene eh sì sì noi soffiamo soffiamo fino su perché non si sente l'audio di CS oh mi dici com'è che devo disabilitare il launcher dalle impostazioni non mi ricordo quello grafico? sì sì c'è proprio un'opzione mi pare a destra quale voce però? eh no non me lo ricordo vabbè muovete pensavo quello sapevi tu sei informatico certo sono informatico non lo so che cosa fai ah è tornato dai quelle cose in arco roba certo certo tutta quella roba là sì 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 ok l'audio è tornato quindi benissimo senti vogliamo andare su Buddy Spike e fare una qualcosa no 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 per me va bene allora io come si chiama i Cold War non ce l'ho quindi va bene allora andiamo dove c'è gente dove è passa che è andiamo su Buddy Spike è il lato red visto che siamo in minoranza e loro sono 7 contro 3 e possiamo io prendo il Mirage sicuramente quindi è un 80 anni 80? sì ok abbiamo un 80 però mi devi dare il tempo di entrare perché si si fai con comodo fai con comodo ci sta mettendo una mira da quando hanno aggiornato ora ti si abilità il lancer vediamo se cambia qualcosa ci sono mangiato una fresella di alta mura con i comodorini ci ho messo il pesto ah capite tu poi per finire vabbè olio è sano ma per finire ci metto sopra la cazzo si chiama la burrata la burrata applausi mamma mia sei roba uno chef devi 2 no e quello la fanno proprio così se non sbaglio allora in post Girls cursor fullscreen non qua no, no, siamo reali vabbiamo lurtimo VR no ho detti cost preventing diciamo che più o meno sempre il solito Quindi possiamo decollare da krasnodar center e attaccare soci o decollare da make up si forse è meglio make up e attaccare socia launcher on start sarebbe ok quindi attacchiamo partiamo da make up e attacchiamo soci si sto cercando il come cazzo si chiama buddy buddy spike 80 da make up soci si ma io non faccio aria della terra col mirage eh prendi quello che vuoi io prendo il mirage no no prendo varie aria col mirage prendo varie aria ah ok si se non c'è uno che ti fa buddy lazy tu fai ah no certo certo ci ho provato a fare i bombardati col mirage ma è una cosa proprio inutile è difficile a parte che è difficile ma se aggiustassero le buff 100 quella lì e le fai sulla sulla pista quella è buona si allora lato rosso devo prima scriverlo in chat vero no a quanto pare sembrerebbe di no basta che basta che si join qual'era l'auto start come si chiama windows sinistro più home però vabbè però questo è facile da farlo per te no no io faccio l'auto start va tutto in automatico subito bravo bravo make up make up sto pensando di fare un trasferimento cioè zone basso lazio e vieni a roma a roma non ci verrò mai sappi perché perché non mi piace a me roma non ti piace roma e non mi piace roma cioè non so come fai a vivere in quel burdello della madonna eh perché ci sono nato forse eh no ma cioè io sai come ci vivo bene a roma quando c'ho a casa mia col terimetro attorno il garage il prato ci vivo benissimo ah vabbè allora c'è stanno i posti eh no io nel condominio non ci posso cioè nei condomini no ci sono i posti però come dici tu eh si lo so che ci sono però sono un po costosi però eh che del problema eh lo so purtroppo qua non tergata niente nessuno quindi preferisco zona limitrofe che sono in pace se ci voglio venire ci vengo ma comunque non ci metto una vita per entrare mi sto aspettando che carica stavo pensando formi a gaeta oppure cassino addirittura cassino via di mezzo no cassino non è che ci voglio andare a cassino perché ci sono delle scuole là allora gaeta ebbè oddio sei proprio in basso lazio quindi lontano anche trabiette da roma e non le vengono invece tipo castel Gandolfo, Castelli Romani, Velletri, Velletri, Marino queste qua è più accessibile eppure anche più bello in mezzo al verde c'hai il lago vicino là ecco se c'hai la moto là ti diverti tanto perché? come perché? là ci stanno dei posti fantastici quando è in moto ma guardi io in moto ci sono stato là i castelli romani quelle zone là però è collinare beh oddio insomma però io so tipo da montagna proprio cioè io dove andavo con la moto in montagna vabbè qua vicino ci sta quando è in montagna c'è cosa? Capranica Capranica non lo so dov'è Capranica si è perso l'Aquila? no sempre vicino ai castelli dopo me lo guardo in realtà volevo stare più vicino al mare sì quindi beh ma c'è più vicino no il mare già mi fa schifo però vabbè giustamente oddio lo sai ma come che perché non mi sa accendere l'Alua guarda io ho il visore nero e la schermata bloccata del computer quindi non so che cazzo ci è venuto guarda lo ho killo perché sennò non so che sta facendo si sarà bloccato nessuna risposta termine attività vediamo un po' se ce la facciamo a volare poi il Lazio se fate la settimana corta con la scuola quindi beh non è meglio eh? non è meglio sì come qua io qua facciamo fino a venerdì c'ho un lada che è un po' fiacco non so se è un bug ma perché è fiacco che ha? ah ecco adesso si è accesso ma che è adesso? allora sempre meglio tardi che mai allora oh è partito secondo me era quel lanciare di merda eh per forse siamo multi play buddy yo buddy adesso si è schiantato un Aerofighter sì in Australia non si sa perché non ho letto notizie eh potresti sempre qualche malfunzionamento c'è c'è ah è quello sì scusa la frequenza delle VR dove sta? ah qua aspetta dobbiamo accendere stiamo chiedendo che è ah va bene aspetta un'altra ah no è online? che è? eh non si vede che cos'è? eh non vedo ah quando te l'ho detto al bacco amore senti sto online ci sentiamo dopo ciao 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 quando devi rompere i coglioni eh eh vabbè io sono pronto sono reo eh guarda ora ti faccio red join vediamo che succede che cosa è più veloce però c'entra per più veloce ma eh era quel lancer secondo me eh sì sì unit type mirage 2000 proviamo a te prendo l'aria ma come si può fare una sorta di cose che appesantisce il sistema e lo sanno pure no ma mi viene a fregare poco c'è ma con chi hanno fatto i scorsi? io non trovo guarda se trovi la frequenza dell'avox no 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 fai una cosa aspetta apri SRS no 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 la devi switchare eh allora aspetta tanto io devo accendere tutta la madonna se mi carica un attimo io mi sento le cose si è messo il DDM si si ho messo tutto e ti tocca posentare altri 2-3 minuti eh ho chiuso anche la canopy quindi sono proprio pronto mi do toglie solo i ciocchietti di legno allora è iniziato ok allora io adesso faccio shib tab pump SRS dcs appliance si 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 no connect loltac 1 in game connect ok almeno io sto con l'ensu sul live GCI se c'è ma tu dove sei esponato qua al make up perchè non eh vicino a te ho preso lo slot io da un solito mi ha buttato no mmm ce la facciamo a uffiare 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 a cercare ma tu sei sulla taxi per caso adesso sto scendo sto attaccando adesso che stavo cercando sto sulla 31 park 31 dobbiamo andare a soci hai detto? si park 31 ah ok sto dall'altra parte ti raggiungo va bene allora iniziamo a fare una bellissima cosa non sai devo trovare un'altra volta il tasto quello la del dogfight quello che ti fa il quadratino io te lo dico no no ce l'ho il tasto ma non mi ricordo qual'era la sequenza qual'era 43 25 57 perchè devi stare prima con l'im9 mi sembra e poi attivi quella cosa con la full in borsa che mi sembra se non mi ricordo male si ma te lo dico quantitiamo in vola 39 57 ma sei live? si sei in live? si ok perché? eh no me l'attacco pure ok allora io ho impostato quello che è soci mo mi imposto moico può essere almeno un riferimento 44 40 eccola ti vedo sto arrivando da te 40 0 2 15 ok contatti lontani 111 nade la mano vabbè validate ora 1 e 2 ci siamo guarda un po' le ehm allora che cosa ti volevo dire guarda un po' le eh il taff quello che usiamo? 1 1 megop taff1 vabbè intende il tempo che attacco la diretta vai dai subito il man pad è qua davanti ok ti seguo si tempo che mi fai fare un check a vola ecco vedi cosa non ho attaccato il FF l'ha attaccato? si si è attaccato il DDM? tutto 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 vabbè si ci sta a chiedere se no dopo magari no mi hanno preso cazzo c'è un F14 vedo sull'RVR vai la taxi qui in fondo c'è la pista si è lunga? si penso se tagli il quadro le vogliamo a sinistra ora mi faccio dare pure VR menu c'è due request ogni due minuti ah io ho fatto ogni minuto si ho pure il GCI quindi che parla ah ok ma è umano o è cosa? no 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 è automatico ah ok ciò ti ho detto metti DSRS eh lo so ma lo devo fare la prossima volta lo faccio io in realtà ho paura che quando poi lo faccio mi si sballa tutto il visore capito? mhm cioè non esco mai vabbè allora ti seguo tu sei più hai più copertura c'è un elicottero qua da noi all'altro dove capisci? ah questo è ah lì avanti si sta decollando ok vai quando vuoi? che elicottero è grosso? eh sarà un MIG eh ovviamente un MIG un ah 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 il nuovo modello esatto un EIND vai power brake brake ehm brake off oh ma che tira tutta la testa non riesco a controllare c'è un po' di vento cazzo si cazzo merda madonna che casino noo che p***o oddio ok sono decollato non ho male ma mi ha buttato tutto madonna che casino speriamo che non sia stata rovinata i carrelli qua no no 530 TAF gun select e force G ok ok il TAF già ci indica qualcosa a sinistra viro a sinistra ti funziona? si mi hai fatto soltanto un jump no a me mi indica già la direzione io vedo quattordici non so che quota è il quattordici quattordici e mille quattrocento si questo è un contatto valido l'abbiamo a 30 miglia si fagli un attimo gli FF perchè si ripreso allora sembrerebbe un nemico un nemico si ce ne è uno o ce ne sono due io ce l'ho lascio l'ho alloccato provo quello dietro vediamo che cosa cambia non cambia un cazzo io ne vedo uno vai vado in after vai ti seguo si è un nemico confermo si 13 miglia eh ce l'hai? ce l'ho ce l'ho se ci vuole lanciare tu lanciaci eh io sto dietro a te vai te lo lascio rallento prendilo ho levato l'after ok in flanking eh eh io cerco di mantenere 10 miglia non è flanking questa ma adesso non più cold è da pushare questo eh la sto pushando vado già a bassa quadra c'è una farfa qua non so se è levata o no eh mo te lo dico aspetta sto 11 miglia siamo su una farfa alleata perfetto sto 11 miglia da lui 10 miglia ma l'ha perso ma l'ha perso ma io lo sto seguendo ancora vai le rampe grid ok vado e gli lancio vai aspetta che lo sto perdendo è in flanking destra fox fox1 ha lanciato è il mio è il mio non l'ho preso non l'ho preso no 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 andiamo andiamo in fox2 lo vedo sta lanciato lanciato niente non l'ho preso eh è tuo è un f16 fox fox2 cazzo hai vedato pure questo non ci credo ce l'ho dietro sto afflerando mi vedi? si ho perso troppa velocità e lui sta afflerando adesso e se lui quello è afflerato sta tu? devo up there splash no hai preso me no te cazzo ho preso me ho preso me ho preso me e dove sta sto dicendo? eh te l'ho detto che era lui che afflerava noo mannaggia va bene hai preso lo slot vedi che stava andava nella direzione opposta alla mia oh però sto vivo eh no no mi dispiace ero convintissimo che ero no ma vai vai ma che cazzo hai oh neanche gli FF che ho fatto cazzo fa perché l'ho lockato con i missili direttamente vedi? allora unit unit mirage non lo vedo non lo vedo oh ma sei evitato un un missile frontale ma come hai dato a farlo? si pure a me hai evitato un missile era in pieno lock si cioè si sei evitato pure il tuo si ah te ne hai evitato due dei tuoi si si pensa che ho detto levo manetto ho levato la manetta ce l'ho dietro ce l'ho dietro ce l'ho ce l'ho dietro ce l'ho mi sta andando a fight vai vai io non sto ripartendo non siamo cadendo giro tondo e ti devi tenere sopra i 350 sennò tra i 300 e i 400 lui non ha la stessa manovrabilità che l'ho dietro no tiger mitt box va Vai Flash, vaffanculo Meno male, va Oh, mi ha fatto sudare Ma torna in base Si, ti aspetto 39, 56, 44 Oh, ma c'è un altro Un altro dietro E andavo bene C'è un altro Eh, torna a canna qua Stavo vicino a me che ce l'ho proprio di C'è Stronza non muore Tornata, torna indietro, ok Oh, mi dispiace proprio per quel bruso blu Eh, però non fa niente, oh Non è scoccia proprio Quello io l'ho beccato l'altra volta Eh, si, vabbè Ma ero proprio convintista Perché ho visto che andava giù E' un merge con te No, ti ho detto io Quello che flera, quello che flera E poi non so se lo vedevi Però ti ho detto quello che succedeva Si, che poi ero completamente convinto Che ho lockato direttamente con l'IR E' una botta sicura, capito? Mh Infatti tu non ti ne sei colto E ti è arrivato il ministro Infatti non mi è arrivato nemmeno Che strano, eh Mh Che strano sta cosa Perché quello dovrebbe funzionare Si, perché io l'ho lanciato dall'alto Forse è per quello Ah, dall'alto? Sì Ok, sto Qua c'ho la diretta Me lo guardo Magari forse funzionavano Non me ne sono risultati Eh, guarda pure la diretta mia Ti faccio proprio vedere Quello che è successo Si collega a stecca? No, non ce la fa Ok, l'ho tirata Ah, i carrelli sono un po' danneggiati Ecco, ma fatti Eh, ho danneggiato i carrelli Mi sa che dovevo riprendere lo slot Oh, l'ho ritmo Eh, sì Intanto non per strada Io rimango qua Sì, ma sì, sì Ok, ho preso proprio vicino a te Ti ha messo la cosa della taggermint Sì Sì Ok No, non ho risposto No Capi Lo sai che faccio? Io riarmo Ci metto pure il ricletto Ah, io ci metto sempre qui Eh, mi sono scordato prima Non ho preso Mmh Tu vuoi ripartire, vuoi ripartire Mmh, fammi sparare Fammi sparare Fammi sparare Ok, allineo e sono a posto Sì, sì, vai tranquillo Vediamo di fare un VR Avax Se no Shadow Request Ammo ogni 3-2 Comunque c'erano due contatti nemici Sì Eh sì C'era sempre quella F16 E un'altra Peccato che i punteggi sono buggati Quindi non siete no che bene Sì, sì Dopo me riguardo la tua diretta Che voglio proprio vedere Cosa è successo Ehm Comunque attento che c'è vento, eh? Molto Eh, ho visto, infatti mi ha buttato tutto da un'altra parte Ehm Quindi se parti prima tu aspetta che prima di partire Sì, sì, sì Ehm Eh no, possiamo pure volare nelle porti insieme però Devi metti un po' più Sì Comunque è sempre il migliore qua negli 80 Il Mirage Sì Sì Sì, ma non c'è storia, questi misti sono troppo Performanti rispetto ai Am7 Sì, sì Sono delle barack quelli aeree, quei missi Sì, sì Qui inizio li puoi devi deviare tipo come facevano gli Spitfire con i V2 Due vicini li butti Talmente che sono lenti Sì È un flank, eh? Sì Dove? Là, all'arco sinistro Ah eccolo là, sì Peccato che non è cliccabile quell'aeree perché è molto bello Hai capito? Io ce l'ho, su 33 però Eh Io ce l'ho, pure il Mirage 29 è molto bello, eh Ma io avevo capito che dovevamo farlo ma poi si sono allenati, che è successo? Bah, chi cazzo lo so, il Mirage 29 è bello Sì Però effettivamente Se ci pensi, il Mirage 29 è ancora meno benzina dell'F16 E consuma ancora di più Ah, perchè se... Là devi partire proprio... È ancora un aereo Sì Te lo usi per fare difesa in base Chi gioca in difesa? Esatto Comunque quello è fenomenale C'ha i missili 27T Che sono in prega dei Phoenix A ricerca dei calori Sì, quelli lì sono buoni Sono ottimi, sì Sì Guarda, apri i freni Sto appiccicando con il suo cavo stasera, eh Guarda, io ho fatto, se vieni davanti a me Sì, sì, sì Mi tolgo questi ciocchetti del legno Allora, scusami Ma non ho mai ciocchetti Tu hai il freno No, no, l'ho tolto i ciocchetti Allora, quella modalità Quella modalità che dici tu È Weapon System CMD Aft, giusto? Ehm, se mi prendi Allora, aspetta Vediamo se me lo fa fare da terra No Quindi dobbiamo andare in volto No, vabbè Sui controlli, no? Sui tasti Che dovrebbe essere quello Eh, lo devo vedere Perché se non lo clicco Non mi ricordo qual è Ok, ok, vai, vai Vai, se ti seguo A me? Eh Non vuoi essere osservato? No, no, vabbè Sta partendo il flanker Comunque l'F15 è un errore di merda No, sì, infatti L'ho sempre odiato dall'era dell'FC3 E non lo prenderò mai Ma ecco Forse è giusto se muore caro Ma se no non lo prenderò No, no, dico proprio nella realtà Se ci pensi È soltanto un cazzo di ladera enorme Eh Effettivamente vede tutto Quei sistemi Eh, beh, quello è importante Una volta che vedi tutto Lanci Fox3 Sì, eh Ecco Però se ci arrivi dietro Ciao Ah, sì È bello che è morto Il flanker è superiore proprio Sì, sì, sicuro sì Ma io preferisco tanto l'F18, guarda Ok, stavolta ti ho dato 3 secondi di vantaggio Sennò mi scaraventi Un'altra volta A Pasquale Sì, ma non so se sono stato io eh No, forse Perché a me proprio girava tutto a sinistra Eh, anche a me a sinistra sì Infatti devo compensare subito adesso il timone qua Ok, io ci so Vai Power Brake 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 off Sì, sì, io sto a compensare... sì, ma tanto di razza... ah sì Ma madonna mia Ma come cazzo devo fare? Io c'ho tutto a compensare a destra Guarda qua qua Sì, sì Ma quello è un 18 a sinistra sulla RVR Sì, sono giusto a te Sono giusto a te Sì E che? Quindi ce l'hai il tasto? Sei a posto? No, non capisco perché... non... non... sì ce l'ho il tasto ma non... ah adesso... no ma me lo fa in verticale... vabbè... Vabbè... Ma c'è il smanetto poi... No, no, il timone te lo trovo un attimo, ce l'ho il tempo di guardarlo Allora... qual è il tasto che... che utilizzi? Sì Wave on system CM Abbiamo... aspetta abbiamo... ma te lo dico... abbiamo un contatto a 33 miglia eh? Allora... NAV UPDATE MAGIC UNLOCK devi trovare NAV UPDATE MAGIC UNLOCK FAMMI VEDERE CHE CAZZO CI ABBIAMO QUA FAMMI VEDERE CHE CAZZO CI ABBIAMO QUA UPDATE FAMMI Ecco... Io non mi sposto eh... appena hai finito me lo dici Chissà dove cazzo l'ho messo... no vabbè poi lo trovo sennò ti perdo di vista... che ho lockato te? Penso di sì... sì... sono io... tienimi lockato e trovate il tasto... intanto rallento un attimo Ecco di qua Ah ok... ok... l'avevo già settato... Allora l'avevo? Sì porca miseria sì... 2-9-2 Possibile? Che sei tutto che vengo dietro... sì perché dopo... dopo un po' che non lo utilizzi... te scordi dove... dove ce l'hai? Allora qua mi dava un contatto per 2-9-2 quindi tutto a destra... però ho due con un contatto... dritto a noi... 13.000... per... una sessantina di miglia... Viro a destra... sì... Viro a destra... sì... È più basso di noi eh... sì... Mettiamoci almeno a 15 o 16.000... ma... Continua a virare a destra... così... Sto chiaro a te... sì... Che lui è... anzi no... viriamo... a destra... Lo vado a intercettare... se no ci andiamo a perdere tempo qua... Scanna avanti vedi qua che abbiamo qualcosa? No... momentaneamente no... a quanti io... basso l'antenna? Cioè... questo è a 32 miglia... 31... sta andando d'altra parte... non so se lo vedi... No perché sto... ho messo... oh... 17 a livello eh... ok... No non lo vedo... a che gra... a che altezza sta? È più basso di noi... ecco qua... mi sa che ci sta vedendo... no... Ah non ci vedi ancora... C'hanno bloccato un U... che cacchio è U? E qui sarà qualche fatto... attenzione a scendere... Ok... Anzi... Ok... c'è un contatto qua... l'ha segnato al TAF... A 15 mila piedi... I colori che tengo segnato... C'è un Phantom... che cazzo è questo Phantom? Alleato o un... Un 16... un 16... C'abbiamo un Phantom qua... alleato? Dove? Tra di noi... Non so se è blu o rosso... Non lo vedo... Io ho un... Il contatto... Io vado in After... Vai vai ti seguo... Qui... Sta a 17 mila... lo intercetto anch'io eh... È vicino... ok... Io lancio Fox One... Già ci hai lanciato? Sì... Come cazzo c'hai fatto lanciare da qua? Eh... sta... sta vicino... 15... 13 miglia... È lontano... Gli ho lanciato... Sta... sta afferrando... Oh... 9 miglia... Che cazzo mi ha preso? Si è stato preso? Sì... Cristo... Ho fatto una botta di fuoco qua... Ok... spresh... preso... Vabbè... Scusa puoi controllare per favore... Se sto Phantom è alleato o no... Perché io li lancio? Eh... Sto cadendo a picco... Come un sasso... Fox One... Oh... Diavolo... Ma hai ripreso di nuovo tu? No no... assolutamente... Non t'ho preso... Friendly Fire... Io ho been firing up... Friendly Force... Brutale... Diavolo ho preso... Si... No... ma come ho fatto... Impossibile... Ho preso... 18... Che cazzo... Stai davanti... No... Prenderò lo slot... Scusa ho preso il 18... Dall'altra parte... Tu stavi dall'altra parte... Proprio... Stiamo a scrivere Punish... No... Ahahahah... No no no... Stavolta no... Assolutamente... Ah... Ma non lo so... Ma... Che cazzo sta succedendo... No... C'è un complotto qua... C'è un complotto qua... No... Io ho proprio preso quello che mi diceva il TAF... Quindi è impossibile che t'ho preso io... Vabbè... Non ci pensavo... Pensa... Che c'è stato da fare là... Ma tanto ora... Stai collo... Vengo là... Soci... Dammi questo... Che c'è un contatto... Ma chi cazzo sta facendo? No... Io farei proprio una cosa... Io metterei... Questa prima farpa che è una rontura di coglioni... Così me la tengo segnata... Una seconda... Io so che non me lo segno proprio... Ah ma in parecadute... Vabbè... Cazzo... Comunque c'era un Phantom tra di noi... Io non so il Phantom... Ma se è rosso o blu... Mmm... Non lo so... Secondo me è blu... Fox One? Ma mi becca un'altra volta... Ah è certo... In base... Tipo il boomerang di quantosso... Sì... Flera... Flera stocca... Boom... Fatto un bel botto... Incenderà una foresta... Mmm... Vabbè... Io finito i missi... Posso tornare messamente in base... Ah no... C'è un missiletto su... C'è un Fox Two... lavorare... Sì... Un'area rischio... Un... 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 Più... una parte col nome ober no comunque il miraggio è una bestia fa una bomba no ho preso guarda qua ora prendo questa non ce l'ho 4 4 4 4 4 4 ma tu non c'è nessun lock nessuna avvisaglia no no ce l'ho avuto però mi ha detto tu l'hai lanciato si quindi io sentivo ho detto vabbè è lui ma mi sa che non eri tu no e c'era un phantom detto di mezzo adesso non so che cavolo è il phantom si sta nel blu o nei rossi a me mi ha sverniciato che si è messo tra me ma non mi sembra di aver visto il phantom però nei rossi quindi può darsi che era blu però pensano che TAF mi ha dato un contatto F18 distante non mi ha dato questo qua tra di noi io non lo vedevo proprio a questo comunque ha fatto molto bene ma tu ce l'hai il microsoft simulation si lo dovrei anche levare dall'hard disk perchè tanto non uso più ma guarda sei un bel aggiornamento dove ci stanno le missioni da fare si? si e infatti me lo ristallo pure io perchè ho visto che è fatto molto bene con gli elicotteri pure ma io ho provato a volare l'elicottero e com'è? ma quando hai scelto a DCS sono troppo schifo eh lo so però è solo per volare il mondo si però dirti che mi fa impazzire si l'ho comprato perchè era molto bello poi l'ho volato e già solo la navigazione anche nelle missioni che trovavo di microsoft erano balcate scemonite beh ma tu da quant'è che non lo voli più? un annetto eh pure io io ho un annetto e mezzo ma pure di più che non lo volo però ho visto dei video hanno migliorato tantissimo e ora mi sa che me lo ristallo anche perchè mi piace fare i missioncini di salvataggio con gli elicotteri eh quella si è bella oh c'è un contatto ma tu stai atterrando? si allora dimmi soltanto quale usi per atterrare che mi faccio la darks e vengo dalla diciamo ecco mi troverai a dove siamo partiti poi hm sei giusto vabbè mi rimetto la ok vado e va in fondo e vengo la si si vengo tutto mi chiedo non ha dato il video ma se no non ha dato questo mi vuoi vado מה che si io ne ho menuto ah comunque la visiera per il sole è una cosa fantastica eh vedi i contatti ti aiuta parecchio ok sto touchdown mo ti rompere una mano si ma c'è poco vento no 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 mi ha lasciato in mezzo ai mic non lasciarmi di mezzo no annaggia poi come diceva devi coprire che ci diceva il lato cieco si 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 a momenti si si poi mi ha detto si si arrivo ma dove in base si 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 se dovessi mai fare questo esperimento la c'è un'ora e mezza c'ho il parco nazionale d'abruzzo ho poco avvinto i mondi ah ma già l'hai chiesto? no lo chiederanno prossimo ma quando che l'ho chiesto? marzo aprile ma ma invece tua moglie che fa? ma cioè andiamo lei già sta bene questo ah si poi non lo so se è arrivato al lavoro se la chiamano si ok sono pronto ti seguo o mi segui? tu sei pronto? si eh inizio a partire ok non ti fidi? no 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 è che solo quando sei da morto tu sei pronto? si si sto mettendo il chiesto non c'è nessuna pista no vai ok break power oh stanno vicini break 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 off che ci stanno? stanno vicini eh? si si no ma sta tutto se tu c'hai c'hai caso sta tutto quel coso col timone a destra eh non lo vedo pure io io sto proprio lottando per tenerla mannaccia ah poi 140 eh reagisce si 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 che rap e vai ok vado verso il contatto portato il contatto è a 2000 a 7000 che cazzo è? si provo a lottare ho lottato ho lottato vado a 27 miglia sta mi alzo di quota pure io è in flanking sinistro però non lo vedo sul radar eh? si se tu vai al tuff innanzitutto te lo fa vedere ma è in flanking no a me no eh non lo vedi perchè è in flanking ora guarda adesso la 9 anche più blu comunque sta qua sotto attenzione mi rivela 15.000 si qui non ci sono farfo per ora ok a colori lo vede dritto a noi si è in cold ok agganciato di nuovo 20 miglia si 21 è tra le montagne si allora lì non c'è farpa ok quindi mi alzo ancora un po' no no non c'è puoi andare là si si mi alzo di più così meno non lo perdo di vista è in cold eh probabilmente il GCI ha detto che lo stiamo cacciando però non vorrei neanche sprecare troppo carburante eh qua abbiamo una cosa lo lasciamo e teniamo tolgo esatto tolgo l'afterburn ma rimango al 100% rimango a 20.000 piedi vai lo seguo facciamo scia eh no 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 l'ha perso si sta a basta quota sta adesso si si affascina se scendiamo di 1000 piedi non ne facciamo ok vado giù a 20.000 io non lo vedo più sto guardando ma non no neanche il tuffo lo vedo più ok rimani qua 20 20.000 va bene ok 22.000 ok 22.000 si c'è un po' di tu mi sta dietro vero si vedi che hai hai appena chiuso gli afterburner ah non c'è cosa la spia spenta eh no ce l'avevo un po' acceso niente questo sta fuggendo proprio si vabbè non rimanerà rimanerà così eccolo qui mi sa che è riuscito è uscito di nuovo lo vedi eccolo qui 18 19 19 no 19 è sempre cold mh l'ha riperso divina un po' più a sinistra se ti dico io basta se ti dico io basta se ti dico io basta basta quello ci porterà a soci no se ci porta proprio in mezzo alle montagne si può portare in mezzo a qualche 18 miglia 19 comunque le vr lo vedi adesso? no ancora no è basso sul radar lì io lo vedi? no io no me lo dà al taff ma non scendere non scendere 18 si e lui è è via ok adesso ho lockato 18 miglia ok lo lascio che guarda se c'è altro qua si sta a diretti tra le montagne lo sto seguendo tienila ok ho perso ho perso accendi tipo qualche migliaio di piedi facciamo uscire facciamo uscire facciamo uscire ma lo cerchiamo di nuovo ce l'hai il ghost no? si si hai 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 l'ho c'è l'ho c'è lo c'è lo c'è l'ho c'è lo no, non è questo niente, allora rallentiamo pure un po' si, è quarto al 90% tu sei sempre di 3 almeno? si, si 1,07 dovremmo andare, o 0,62 mi spotta dei contatti è Tuff? no ma che ti segue? no, no, aspetta un attimo, vediamo qua stiamo andando a Sochi, sostanzialmente ah si, quello sta tornando a Mogadrai dire a destra per andare verso Sochi ok, ha finito la tanica io lo vedo di nuovo lo vedi? si, 18 miglia si, il problema è che là non ci arriviamo dici per via dei Sochi? eh, sta atterrando a Sochi, lo vedo pure a vista ecco qui, una U no, no, ci ho lanciato ho lanciato ok, via a destra via a destra scendi qua, scendi sulle montagne si, vado giù mi vedi? no, no perché sto avvirando ho flerato ah si, ti vedo, ti vedo ok, vengo perso di te ok, ma ho perso quindi ci sei? si, si, c'è da te ok, risalvo vediamo una cosa stiamo qua qui a sinistra c'è una parte la volevo dentro ok, manteniamo sta rotta per ora 101 per 160 ci hanno lanciato, ci hanno lanciato no, a te si, vado già a bassa cosa rimani su 340, un cambiare rotta ok, 340 abbiamo il più è l'F18 il più è il più è F15 ah ce l'avrà avuto uno spike ok, io sto avanti a te si, non capisco come mi fa a loccare ancora senza il mezzo della montagna tu sei alta quota? no, 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 sono giù adesso risalgo staccotano chiaro staccotano chiaro chi è che fa scia? sei tu che fa scia? ah no, assolutamente io so a bassissima quota abbiamo un contatto davanti a noi? no è per 120 130 ok, io ti seguo ok, sta ha lanciato ha lanciato attenzione ha lanciato ce l'ho splashato l'hai l'hai ammazzato? si, si, ha appena splashato perfetto che cazzo è che mi ha lanciato adesso? no, no, nessuno io no era l'F15 allora? no, c'era un altro missile inbound non lo so che cazzo era forse ha lanciato i due allora, io sto andando per ti vedo, ti vedo, ho visto ah ecco che cazzo era che mi loccava però mi era F15 quello mi diceva che era però mi diceva che era un'altra cosa non era un F15 però a me per esempio mi dava U mi dava che mi loccava eh, quello infatti io dicevo ma com'è possibile che mi locca in mezzo della montagna una SEM ok vira per 330 no, Rdans no, ti segui, posso chiederti che gli ho lanciato? un Fox 2? no, no, un Fox 1 ah, per me poi l'ho evaso è il suo che mi ha lanciato il il suo Fox 1 mh ma sta in After? no sono al 100% ok, il TAF è agganciato a un contatto davanti a me però a me è un'aggancia, come è possibile? a meno, no, è fasulo perché è a meno mille metri sono solo a me? sì, c'è un'unica però mi lampeggia, taff, taff, taff c'è un'altra cosa che fa pote, diverti sempre col Mirage eh sì sì ah beh, ma poi in Cold War ti diverti di più pure eh sì con l'f1 magari se me lo prendo eh ma quello è OP tra virgolette sul col 2 dici? eh perché c'ha un bel radar che aggancia subito ti diverti io so come tu eh beh ma anche quella lei era? no 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 sì certo no no nel senso OP che nel senso quello fai estrage ecco se vogliamo così in coppia è finita già così anni 80 ma infatti io spingo che te compri un Cold War proprio perché ci diverte tanto con quello facciamo scia? no negativo ma rimango qua allora vediamo sì ma deve essere un single sit perché io mi spievo un mirage vabbè diciamo che gestere è come se fosse singolo perché poi fai tutto devi fare sull'f4 sì ma me lo devo comprare quando c'ho voglia di impararmelo perché mo me lo compro non lo voglio mi rompico giù ma tu dici il Phantom o il Mirage? no il Phantom mi piace l'aereo ma è come il Tomcat non finisco che non lo uso ok abbiamo un contatto qua abbiamo un contatto qua dove? il Tuff mi ha assegnato un contatto qua vicino al 15 miliardi tu sei vero di me? sì eh va io non ti vedo però però non me lo vede il radar eh dammi in heading heading per 340 340? sì è in base nostra quello? sarà un'elicottero? eh vedo tu sì se faccio gli FF vedo guarda adesso sulla tua testa se mi segui andiamo a vedere di queste tre eh no ma già sto vedendo che mi da un un alleato lì eh però ti ho visto strano il tasto me lo da ti seguo vediamo qua 160 che roba eh che quanti che altitudine? lo sai che non mi veniva mille 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 non lo so mi veniva mille ste dovevi vederlo la stagolzato dell'altitudine? eh pure non mi ricordo Allora, alla tua sinistra hai una e due farpa, nemiche, che non le vedi qua, però stanno su questa zona qui, e qui alla destra sotto abbiamo la nostra farpa alleata. Niente, è sparita, non c'è più, è un alleato che sta attaccando alla farpa che dico, che è nemica. Niente, era lento, mi porto al 90%. Si. Ci dà un contatto dietro il TAF, però a me le VR non ne parla più, perché... A me non mi parla né le VR né il TAF, e manco il GTA è sto cazzo proprio. Perché le VR non trova nulla, non vuoi niente. Segui di troppo a sinistra, vai su una farpa, hai 10 miglia di tolleranza. Vediamo un po' se l'avete vista. Ah, eccola la, si, 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 la cerco di fare a largo. Come cazzo l'hai fatta a vedere da qua, vuole sapere. Dov'è? Occhi di farco, a ore 9. Mezzo vicino alla città, la vedi? Sì. Anche se è in fiamme, quindi penso che sia sotto attacco da parte nostra. Sì, e qui abbiamo un alleato che sta colpendo la ricotta. Quindi o ci giriamo, che so c'è dietro. Sì, però giriamo a destra, ok? Eh sì. Vado. Oh, finalmente un bel volo, va. Eh, guarda, già un'altra volta pure sul Grawling, mi so... Sì, sì. Anche se forse c'è troppa gente là che non riesce a fare un volo così costruito. Ok, seguo l'oltre intercettazione per 1, 2, 0. Sono dietro, eh? Ok. Oh, ma io mi da il contatto qua, adesso, qua vicino. Ma sei sull'angono, scusami? Sì, su uno. Ma che cazzo? Io non lo so. Poi metto la 2. Poi rimetto la 1. Poi sbuccio di nuovo, TAF. TAF. La radio è cisto. Tutto è cisto. Mi sa che c'è un'elicottero qua, eh? Dici? Sotto qua. Eh, per forza il TAF mi... Mi dice questo. Qui c'è una farga, qui c'è una farga. Qui c'è una farga. Questa farga è nostra. Allora, vediamo se viene esploso qualche colpo. Certo, poi ce l'hanno quella di merda. Provo andare ad lockare quello che vedeva giù, ah! Sto provando a vedere, andiamo zoomando, ma... Eh, dovremmo volare bassa quota con il... con il watch it cool. Andiamo avanti, se ci sta... Avanti non c'è niente problema, zero. Allora, c'è un'elicottero... C'è un'elicottero alleato, penso che sia... sta decollando, perché vedo polvere che si alza. Eh, adesso stanno in numeri, quindi non vedo più un cazzo, va bene così. Vabbè, se la vedono loro tra gli elicotteri, se la vedono loro. Eh... Non voglio sprogrammissi che... ... gli elicotteri... Magari un cazzel di merda. Eh, appunto. Io vorrei sapere come cazzo fai... ma tu che ce l'hai? Ma come fa a lockare così bene... ... con l'elicottero? Eh? Locka che è una bellezza, quell'elicottero. Ah, sì. Oh, facciamoci le condense, abbassa un po'. Oh, best... no, non c'è niente. Allora, il TAF mi dà un contatto, seguiamo il TAF, per 1.50. Eccolo qua, 40 migli. Dovrebbe essere alto di quota. Vediamo un po'. Sì, 20.000 piedi. Ho agganciato, sta 38.000... Sì, 38.000. 38 innati dal mare. Eh, c'era un elicottero su quella quarta, era... era nemico. E' quello che abbiamo passato, l'abbiamo appena perso. Vabbè, abbiamo un contatto davanti a noi. Sì. Vado da 100%, senza afterbar. Tu hai... tutti i missili, sì. Sì. Va a vedere? Sì. 30 miglia. E' un flank in destro. Sì, lo vedo. Stiamo facendo scia. Ok, vado giù. Ok, questa è la rotta di intercettamento per 1.70. Vabbè, io lo slocco perché... Guardo qua che c'è qualcosa. Ok, l'ho perso. Perché è un franking. Ma comunque, il ghost ce l'hai che è là, più o meno. Sì, sì. Ho perso. Ho provato a cercare. Ho navigato il Tuff. Ha dietro le montagne. Sì. Abbasso di cuota, sì. Ecco, lo vedo a vista. Sono due, eh? Sono due. Sono due? Sì, è fermato io. Io non vedo un caffè. Avvenza a noi. Senti, vado in borsight. Non mi vede il radar. Vado in borsight. Mi vedo a vista. Potrebbero essere anche quattro perché vedo altri due dietro. Ok, ha agganciato uno. Fox One. Ci sei? Sì, sono dietro. Lo vedo adesso quello lì. Però... Eccolo qua. Forse me l'ho iniziata a vedere. Me l'ha preso uno. Spostati. Che cazzo? Dove è finito? Ma che mi ha lockato? Mi ha lockato un missile. Fox One. Hai lanciato tu? Sì. Fox One. Boh, un splash uno. Eh, sto aspettando il mio. C'era ancora il lock. Flora. Sì, sta flora. Mi sto dietro, eh. Fox Two. Occhio che ci sto io dietro a lui, eh. No, non spero. Ok, l'hai preso, l'hai preso, l'hai preso, l'hai preso. Ok. Mi vedi a me? Sto flora. Sì, era una I comunque. Vaffanculo. Una I? Sì, due I erano. Ok, sei due. Mi è rimasto un Fox One. Scusa, un Fox Two. Eh, a me è rimasto... A me è rimasto due missile, forse. Di cui... No, no, mi è rimasto... No, mi è rimasto un missile. Un Fox Two. Eh, pure io, Fox Two. C'abbiamo un contatto dietro a noi, eh. No, sono io che sto lockando. No, lo vedo a vista. Ma come cazzo l'hai vista? Mi giro, mi giro verso lui. Vai verso Sochi. Ci abbiamo vicino. No, è un paracadute, lascio anche uno. No, no. Però ne abbiamo un altro qua, a meno dal Taff. Per 1,70. O la bassa quota. Eh, mi stanno lockando. No, sono io che non mi devo... Ah. Ok, devo slockare. Ok, sì. C'è la FARP lì, eh. C'è la FARP qui, a destra. Vira a sinistra, vira a sinistra. Vira a sinistra, ok. Ti puoi andare sopra. Ok, vira a sinistra. Ecco qui. Mi stiamo... Mi stiamo... Flera, flera. Levo la manetta. Non mi ha preso. Io ho due missi. Ok, l'ha persa. Eh, ci siamo pure persi. Adesso andando per 1,70. 1,70. Ok. Ok. Beh. Beh. Che dici? Torniamo? Eh... Vediamo se sei tu questo. No, no. Qua c'è un contatto. Aspetta. Dove? Qui sono un paracadute. Adesso sono un paracadute. No, non c'è niente qua. Un po' bloccato. No, non l'hai bloccato. No, non l'hai bloccato qua. Sei tu? Si. Ok, allora ci giriamo. Ok. Se ti giri... Si, si, sto virando direzione make up. Ma stai sicuro che sei tu? Eh, ho sentito un lock. Si, sei tu. Ok, direzione 350. Oh, Raita Vado al 100% Quota, te? Ho già mai passato che non ti vedo. Diecimila. Vabbè, heading? 350 salvo a 10 ok qui c'è la farf ma è distante quindi non ci lancio si no appena ci allontaniamo correggo per 3 4 0 si no no ma tu mi vedi si si mi hai loccato 4 un phantom 4 4 phantom si ma è aie dovrebbe essere eh ma ce l'abbiamo dietro allora ci giriamo ah no questo è tu ecco di qua eccola lo vedo lo vedo lo vedo a vista dietro sono io quanto dietro lo sei? aspetta aspetta che zoom secondo me mi sto muovendo sono proprio dietro di dietro dietro? ok ok allora quello è il phantom in direzione ok sono a 16.000 piedi sopra i nuvole si ma insomma il phantom era nemico ecco qui ti ha splashato può esserlo ma che cazzo per te si è il break porco giude correggo per 3 4 0 si 3 4 0 ma intanto mi hai loccato ho 2 4 dietro si è la coppietta dei mig dei f4 vai quella che abbiamo buttato giù e che mi stanno a presto proprio se vuoi ci giriamo io c'ho solo uno in fox 2 eh io ho uno pure però io non li vedo ma porca giuda rallento così mi raggiungi? senti giro di un attimo vedi che cazzo ci sta qua dietro perché si avvicinano io non ho benzina per camminare ok anzi sono proprio secco non mi sto tirando sono a 14 sono sopra le nuvole proprio ok andiamo di trovare te ok io a te vedo ti vedo so no vedo le due coppie di f4 davanti a noi so a i quanto sono lontane? perché il r4 sono vicini sono vicini cazzo io non riesco a 900 libri di carburante due vale a 5 miglia per ora non mi hanno lanciato poi tu e vado a dare quelle canna con gli altri oh no ce l'hai ce l'hai qui dietro ce l'hai qui e te l'ho detto ma non li hai qui oh che hanno lanciato ho sfresciato ho sfresciato l'ho preso l'hai preso? si si però ne vedo solo uno ne vedo un altro missile ha lanciato torno da te ho visto il lancio ho visto il lancio ho visto il lancio flera io sto flerando è un affarto forse no non so un mito se è un affarto no 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 è sfresciato il caduto adesso io l'ho buttuto l'f4 si ho cercato di tornare in base infatti vedi mi sono scoppiati dietro i missili e te l'ha lanciato l'im9 ma dai mi di giro torno in base si si torniamo in base l'hiding è sempre 340 poi sono rimasto senza carburante che porca puttana ma cerca di prendere quota eh ma vado siamo pure un po' lontani si però se prendiamo quota scendiamo in planata riusciamo si c'è l'ho arrivato e caccelo che roba hai visto si niente beh un bel voletto abbiamo fatto parecchie kingdom eh si abbiamo preso i carburanti i missili ahah ma va niente no io guardavo col pezzi 1-2 lo credo massimo si ci sono due splash mi è tornata pure la fame io sto a 16.000 piedi 14 ti vedo stai a mie ore 7 stai accendo pure le pezzi no no non c'è bisogno ti vedo però come cazzo fai a vedere io che non lo so beh mi fai sentire handicappato guarda no ti vedo ti vedo ti vedo perché ecco hai capito perché vado bene in cold war perché vedo tutti a vista ahah ahah ma tu vedi la mycop non lo vedo io ahah mycop sta proprio davanti a noi tu stai un po' più dietro no quindi difficile la vedi perché c'è le nuvole pure davanti comunque è bellissimo molto bello quando funziona si ma vedi questo funziona bene sto servo beh non ha mad diciamo che è quello ufficiale poi c'è ctibobbo qua vabbè eh nel senso quello è bravo comunque c'è un contatto vicino a te uh uh l'altra volta ma porco giuda uh che poi che cacchia sarebbe perché qua neanche c'è ah no ecco vedo mai qua io scendo si si scendi scendi ora se se lo becca la nostra sana no prendo velocità perché sennò 110 libri ce la faccio oh allora a questo punto prendo così un'altra volta la f12 si vedi la kinii board che dice eh non me lo dà lui come diceva kinii ibo kinii ibo il break quanta benzina ti è rimasta 1050 ah madonna che cazzo fai ti sei portato una zettanica si quelle portatevi no in realtà ah ma perché io stavo dietro di te quindi cazzo fai consumi tanto di più mh corto finale stacco oh ma stasera mi sono proprio divertito cioè così io mi diverso ma certo perché poi comunque diciamo che è più realistico questo scenario piuttosto che un growing 800 player contro 800 player io mi sono Vai, come si dice? Touchdown Sempre col vento che mi spinge verso il suo ciglio È forte? Sì È forte Ok Io senza se mi fermo qua Sì, sì, pure io, basta Touchdown Per me questa è una tirata, vedi? Ah, sì, sì Fai una missione Infatti, alla fine